dogana dogana a dogana ci parlo io ci parlo io eh babbo vado a dare documenti a dire tutto ok a sentarmi e si riparte dogana si allora ragazzi bravissimi anche troppo attenzione un po troppo audace si come attenzione allora io gli ho detto che sono venuto a darvi i documenti così no 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 non salite non si sono scadute buongiorno c'è se mon 24 c'è calcana scoste dalle bai ma ricevo d'un occhiare va va sta in ogni stanza stana se c'è calcana in ban stana l'u bonjour che è questo da dove proveni noi oh allora da dove veni la ragazza parla questo no è che sono dei marsigliesi trapiantati pare parecchio parigi pare parecchio parigi